Mi occupo della preparazione di tutta la moto, mi recco in qualsiasi pista d'Europa per seguire il giornalista e eseguire tutte le sue richieste per renderlo contento su questa moto. E' un'opera d'arte, te ne accorgi da tante cose, da quando sei in giro che vieni osservato, la metti in moto, trasmette un'emozione incredibile, cosa che nessun'altra moto può fare. E' impagabile questa cosa.